Prova, prova. Eccomi, buongiorno. E allora un flash, un flash rapido perché l'evoluzione meteorologica presentata dai modelli mano a mano che aggiornano evidenzia, è incredibile a dirsi, ma l'arrivo di un altro, forte peggioramento, l'abbiamo detto. Fortunatamente abbiamo anche detto che non sarà in corrispondenza delle zone già alluvionate, ma come vedete anche dalle carte che vi sto proponendo è stata emanata l'allerta idrogeologica arancione per quasi tutta la Calabria. Questo perché si sta predisponendo una configurazione barica classica con una bassa pressione che è centrata alla latitudine della Calabria meridionale o meglio un po' più spostata a ovest, ancora peggio, tra la Sicilia, Sicilia meridionale, con perno, facendo questo perno che è moto anti-orario, che fa attorno al minimo che si formerà, genererà intense correnti ciroccali come dicevamo. Quindi attenzione, Calabria ionica, Sicilia ionica e Sardegna orientale, possibili pioggia a carattere di nubifragio nella giornata di domani, ma anche su domenica, soprattutto domani pomeriggio sera. E poi il Piemonte lo affronteremo anche nell'editoriale di stasera dove vedrete con 36-48 ore di pioggia abbastanza continuata che potranno generare qui accumuli anche consistenti. Quindi insomma, maltempo nel weekend, nelle regioni che vi ho menzionato e le affronteremo anche, come dicevo, stasera. Adesso a dopo, ciao ciao!